la prossima volta sono lì sulla sedia per mettere il crocetto perché non ci arrivi va bene? gentilmente i punti del porto li vuoi mettere? eccoli eccoli ci abbiamo messo Simone che la partita prendiamola pubblica sta cosa prendiamo la pubblica ormai Giacopoli è pubblico su facebook ormai io parlo per me Fabrizio Mazzello giocherà tutta la no 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 Raffaele Auriemma non è più nella lista sill io personalmente fa il mio giocato poi oddio vado per me domani domani ci sarà anche Auriemma anche Auriemma quindi da parte mia c'è tutto a buona volta di giocare 50 minuti contro dal fumo va benissimo così sarete due uomini in meno la merda vivente ma non mi vedi e qui sfido il valenza di Matteo Di Norfi lo farò uno schierotto tutta la partita voglio dire se lei avrà il coraggio di schierare Alberto Seibert non c'è problema dipende sempre dalla squadra dipende dalla squadra noi non comandiamo niente